Ciao e bentornati su L'Area Tutorial! Oggi vi proporrò uno dei giochi più gettonati degli anni 80, l'elastico! Serviranno una fettuccia elastica e ago e filo. Uniamo le due estremità dell'elastico con ago e filo. Assicuriamoci che sia ben resistente. Serviranno due persone, una di fronte all'altra. Primo livello, le caviglie. Eseguiamo una sequenza di passi senza mai toccare l'elastico, a meno che non sia richiesto, come in questo caso. Lo scopo è quello di eseguire tutta la sequenza senza errori. In caso contrario, toccherà l'avversario successivo. Se riusciamo a svolgere tutta la sequenza senza errori, possiamo passare al livello successivo, i polpacci. E poi ancora le ginocchia. Ammazza quanto è difficile questo! E ancora più in alto, la vita! Che belli giochi all'aria aperta! E ancora più in alto, le braccia! Possiamo giocare anche da soli, utilizzando due sedie. Il gioco è adatto a tutte le età. Dai che ce la fai! Accidenti! Per poco! Con un po' di allenamento potreste diventare dei veri campioni. Avete visto? È divertentissimo! Provate anche voi e vedrete che non riuscirete più a smettere di giocare. Qua sotto trovate una campanella. Cliccateci sopra e rimarrete sempre aggiornati sui prossimi video. Ciao! Ciao!